allora eccoci qua altra puntata di da zibao dovremmo essere 15 e questa volta il libro è di dario voltolini invernale allora un paio di premesse quelle solite allora anzitutto non trovo più ma aveva la fascetta finalista premio strega 2024 quindi diciamo che fare giudizi esprimere giudizi è un po superficiale perché comunque un libro a cui sono stati riconosciuti comunque indubbiamente delle qualità come al solito se sono qui a parlarvene è perché ve lo consiglio quindi è un libro che anche a me è piaciuto molto e l'ultima premessa metterà in evidenza delle cose che un po non mi sono piaciute ma con questo approccio qui quando per me un libro è a livello molto 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 alto il fatto che gli manchi un centimetro per fare un metro mi scoccia e quindi divento abbastanza intransigente diciamo così mentre se un libro è buono magari divento anche molto come posso dire generoso ma se un libro è così vicino quel così a me mi fa girare le palle questo era la premessa quindi ecco perché magari metterò in risalto delle cose che non mi sono piaciute però parliamo sempre di un finalista strega e di un libro che se è in questa rubrica vi consiglio perché vuol dire che è stata una lettura piacevole lettura che per me è stata di una mezza giornata è bastata una domenica per leggerlo perché il libro comunque è molto veloce sono 140 pagine una roba del genere quindi si legge veramente molto bene la storia è questa c'è il il padre del 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 protagonista che fa al macellaio durante le sue attività si ferisce da questa ferita parte un'infezione che poi rientra ma questo dà il via tutta una serie di cose che poi dopo diciamo non vado a spiegarvi la storia in sé è la storia appunto del padre dell'autore quindi diciamo che ripercorre un po il rapporto fra il padre e il figlio fatico a dirvi di più della trama perché un libro in cui non c'è una trama c'è un racconto di un racconto di parti di vita ma non c'è una una trama si c'è qualcosa ovviamente che che lega tutto che appunto la vita della di di questo macellaio sto facendo un po di casino ma perché sto cercando di non esagerare nel nel raccontare le cose diciamo che come trama basta così voi direte bello mi fate proprio il voglio leggerlo leggetelo e la cosa che veramente colpisce è la la scrittura perché qui siamo di fronte a una scelta stilistica impressionante perché da un punto di vista stilistico il libro è molto complesso cioè è un livello molto alto lui scrive non solo molto bene scrive in modo complicato complesso anche per la lettura non sempre così accessibile è proprio una scrittura molto ricercata una scelte stilistiche strane anche il racconto che è sempre al presente una scelta difficile da mantenere ma che lui riesce a mantenere dall'inizio alla fine a questa scelta stilistica che è molto ecco quasi se quasi potremmo chiamarla una giocoleria stilistico narrativa e questo forse sarebbe un'espressione che potrebbe utilizzare l'autore no perché lui è più proprio bravo in questo quindi il motivo principale per cui lo consiglio è proprio questo cioè perché da un punto di vista stilistico non ha non mi vengono in mente libri uguali non mi viene in mente altri che scrivano così non ho letto nient'altro di di voltolini quindi non so dire nulla però diciamo che i commenti che sono riportati dietro qui sono abbastanza allineati con quella che è stata la la mia impressione quindi è molto ricercato un livello molto alto molto complesso che si fa apprezzare per questo è estremamente originale cioè questo libro ecco la cosa che colpisce di più è che è originale mentre mi è capitato recentemente leggere un libro di un'autrice che sembrava la copia evoluta di un'altra cosa che aveva scritto questo invece è originale non c'è un'altra cosa così almeno io non non mi sono imbattuto ecco arriviamo alla cosa che dicevo all'inizio cioè ogni tanto dire un po più cioè ogni tanto qualche critica ecco anche all'interno di questi che sono solo consigli alla fine visto la potenza della storia perché la storia comunque al di là del fatto che non vi ho detto nulla è molto potente forse questa scelta stilistica è un po to match come direbbe una delle mie figlie adolescenti cioè oscura un po troppo la storia la storia finisce io ho finito il libro in lacrime per capirci quindi la storia molto potente e in alcuni momenti secondo me la scrittura è in competizione con la potenza della storia anziché esaltarla è una percezione ovviamente mia vi sto trasferendo delle impressioni mie che leggendo commenti in giro non troverete non ho trovato ecco quindi non è una cosa che 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 ha a che fare con me ecco io ho trovato che questa scelta molto forte molto alta e estremamente originale ogni tanto è in competizione con la storia la storia che sembra rimanere molto leggera e molto sussurrata ma poi arriva in maniera violenta e secondo me in quel momento lì in quel passaggio lì poi ripeto è un film è un film è un libro che io ho terminato in lacrime quindi arriva comunque a prescindere però alla fine mi è rimasta l'idea che non era necessario cioè avrebbe potuto scalare una marcia sarebbe stato lo stesso originalissimo e la storia avrebbe avuto un filo più di respiro ribadisco questa però è un'impressione che mi sono fatto io tornando alle origini e arrivando anche verso la conclusione quindi questo invernale di dario voltolini è uno dei libri più belli che ho letto quest'anno ho letto dei libri belli è sicuramente il libro più originale che ho letto quest'anno è il libro che ha richiesto maggior attenzione non tanto perché c'era una trama o una storia complessa da seguire quanto perché il linguaggio richiedeva rispetto e richiedeva di essere non è uno di quei libri che leggi e poi dopo tre righe ti rendi conto che non eri attento perché non vai avanti non riesci a farlo questa cosa qua non ti distrae ha bisogno della della tua attenzione e ve lo consiglio tantissimo lettura veloce comunque ce la si cava in molto poco e quindi questa era un'altra puntata di da zibaco lui è dario voltolini è invernale ecco l'ultima cosa che dico scena post come che nei film no quando c'è dopo la sigla si sono spavanzato sono steso la maglia con il pigiama per cui tutto sgualcita va dunque la scena post titoli di coda eccola qua la parte iniziale il primo capitolo con la descrizione delle attività di macelleria del padre secondo me è una delle pagine alcune delle pagine più belle che abbia mai letto è lì è esaltante la scrittura e la capacità descrittiva è veramente il giocogliere che ti lascia lì perché ogni ogni giro di palle le palle aumentano sono sempre più ti dici non è possibile ecco lì all'inizio ti porta subito a un livello che ti viene da dire madonna santa e poi lo tiene così sempre però quelle prime pagine sono una figata va bene dai vi saluto che siamo arrivati lunghi alla prossima dario voltolini invernale finalista premio strega 2024 giusto per dire che io dico delle cose ma poi questo ha fatto finalista lo strega quindi lascia il tempo che trova però merita se non ne avevi parlato